Allora, un piccolo filmato della casa Questo è l'ingresso C'è la cucina, dove c'è un po' tutto Dalla lavastodiglia al microonde Il frigo normale Il sorgelatore con quattro scomparti Questa è la stanza numero uno E' molto grande Questo è il bagno Uno dei due bagni Questo è il secondo bagno Questa è la vasca Questa è la stanza più grande La seconda delle quattro stanze Questa ha una finestra E una porta finestra Con un piccolo balconcino Questa è la finestra